Prima di iniziare la partita, la Juve, il senso che non presente nel sociale, i confronti delle organizzazioni che rispito sul nostro settore, dedica la giornata di oggi alla sensibilizzazione dei confronti dell'Associazione Italiana Donatori e Poggi. Abbiamo qui per noi la presidenza signora Marita Ciasso Vetti, qui cito la parola per un breve intervento. Buonasera a tutti, a un po' caldo qua inizialmente a questi ragazzi, figli e a Greta Lugia, li sento il reto. Noi siamo dell'Aida, l'Associazione Italiana Donatori e il nostro compito è quello di rincomitare la tutura della scuola, se non lo è il trapianto, non lo riesco a manzire, perché noi sappiamo tutti che il trapianto è un crasciasse. Quando l'organo è irrimediabilmente compromesso, non c'è la possibilità che il trapianto, e quindi noi dobbiamo sensibilizzare che quando non ci saremo più, ci possiamo donare i nostri occhi. E il motto principale a questo mondo è che noi siamo fatti per la vita, sempre, sia quando c'è, sia quando questa non dovesse esserci più. Grazie a me, grazie a me, grazie a me per l'organizzazione di questa comunità. E passo la parola alla consigliera comunale di Fasano, che ha vissuto in prima persona un'esperienza bellissima, bellissima. Grazie Marisa, buonasera a tutti, sono Dona Gavazzulli, consigliera comunale, e quindi ho portato a termine qualcosa che era stato lanciato, una vecchia amministrazione, cioè di una scelta in comune. Ogni volta ognuno di me andrà a rinnovare la carta di identità, potrà sottoscrivere in quel caso, la chiasione di volontà di rinnovazione organi, come può farlo attraverso l'AIDO e come può farlo anche attraverso l'ASA. Io in prima persona sono coinvolta da ormai quasi sei anni, perché come vedete qui, anche a me c'è questa bambina che ha ricevuto il dono da una persona sconosciuta. Lei è stata troviandrata soltanto a dieci vissi, mi pegano, e ora è qui con noi. Aveva così pochissimi ore di vita. Lui è stata in lista soltanto tre giorni e ha ricevuto appunto questo grande dono. Io ora, con lei, che ormai inizia a capire quello che gli è successo, sensibilizzo i ragazzi della quinta elementare, delza media, scuole superiori. E questa sera, grazie al nostro Presidente, ad Angelo Di Carlo, ci troviamo qui, proprio perché vogliamo sensibilizzare soprattutto lo sport, che è quella questione che ci accogna tutti noi cittadini. e quindi abbiamo fornito a tutti voi, un mio vicino con l'interno, la possibilità di sottoscrivere la dichiarazione. Quindi se volete farlo, anche questa sera stessa, potete consegnarlo a noi e potrete rientrare in quel tabulato che sarà quello di rientrare tra quello possibile donato a noi. Grazie, grazie a voi. Buon giorno, buon giorno. Buon giorno, buon giorno. Buon giorno, buon giorno. Numero 6. 8 Paolo De Santis, numero 5, Suale Maiore, numero 13, Enis Adoncic, numero 18, A3, Lea, numero 13, Giuseppe Gallo, numero 7, Vinico Albolini, mentre l'uomo di presso e sbagli, Nicolo Tantino, numero 27, Davide Lugliese, buona mentire, nel campo, numero 2, Atletz, numero 29, Daniele Vici, numero 10, Giancarlo Costanzo, venatore mister, Francesco Antone, servizio medico, e per ultimo il capitano, Paolo Messina, numero 14, Al dirige di conto, sui signori, Nicola e bravi seguri, come sempre, Forza Junior Rosano! Grazie a tutti, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.